Vi renderò capace di obbedire ai miei ordini, di osservare e applicare le leggi che vi ho dato. Allora voi abiterete nella terra che io ho dato ai vostri padri, voi sarete il mio popolo, io sarò allora. Siamo sempre comunque nella prospettiva dell'alleanza del Sinai, bilaterale. Anche se qui è un'alleanza nuova che per fortuna nostra non sarà più bilaterale ma unilaterale. Vi libererò da tutte le vostre impurità, sozzurri, non manderò più la carestia contro di voi, farò crescere il grano abbondante. E questo per dire quella unità di fondo della creazione per cui il comportamento della creatura intelligente ha un effetto anche sul prima. E quello è vero, noi lo stiamo sperimentando. Se per avidità inquiniamo tutto, alla fine che guadagno ne abbiamo? Se ci comportiamo con la natura in modo rispettoso, la natura ci aiuta. Dopo la natura resta la natura. Per cui so, è vero o no? E' che per fruttino anche non abbiamo il potere di controllare. Perché allora si che sarebbe da bu. Renderò comunque abbondanti i frutti degli alberi prodotti dei campi per non farvi soffrire più la vergogna di aver fame di fronte alle altre nazioni. Dotate. La speranza di ottenere questo è alla base dell'idolatria dell'epoca. Che è un'idolatria sempre di campagnola, né di fatto. Cioè il tipo di divinità, bara, sera, eccetera, eccetera, tutte sempre per avere l'utilità immediata, la fertilità, l'abbondanza di frutti. Vi ricorderete del vostro comportamento perverso e delle vostre azioni non buone. Avrete disgusto di voi stessi per quel che avete fatto di colpevole e di ripugnante. Lo ripeto ancora, quel che faccio io, Dio e il Signore, non è per riguardo a voi, sappiatelo. Cioè non è perché ve lo meritate. Anzi, voi israeliti dovete vergognarvi veramente del vostro comportamento. Io, Dio e il Signore, dichiaro che quando vi purificherò da tutte le vostre colpe, farò ricostruire le città in rovina e le renderò abitate. Sono là, ormai non c'è più nessuno in Israele, in Canaan ormai, in Israele non c'è più niente. Quindi io dico, ritornerete là e io renderò possibile la ricostruzione e potervi abitare. Abitare vuol dire starci in modo stabile. Quando vi distruggerò e così via lo fa, se cambierete... Per spingerli a cambiare. Qui invece promette... È una promessa fondata su se stesso che renderà possibile agirare nella storia in modo tale che... No, no, questa promessa è indipendente da loro. Questo annuncio di nuova alleanza, di nuova possibilità non dipende dalla risposta. Da loro dipenderà poi utilizzarla in positivo o in negativo. Utilizzarla o buttarla via. Io ricostruisco il ponte ti rendo capace di camminare. Ci camminerai, che dipenderà anche da te puoi camminare. Ti mette lì. Dipenderà dal cuore... Esatto. Dal come accetteranno questo cuore nuovo. Il cuore nuovo non è che è qualcosa che automaticamente con una bacchetta magica lui cambia nella testa. Infatti non è che fa una cosa nuova ma porta... No, lui la fa come possibilità, te la metti in mano. Come opportunità. Fa in modo che le scelte politiche di chi comanderà al momento rendano possibile uno sbocco che umanamente non era contabilizzabile, prevedibile. Ma sempre attraverso il problema, ma anche in questo caso il ritorno sarà attraverso la politica di Ciro. Colui che contro l'immaginazione di tutti distrugge in una notte un impero immenso e si sostituisce a lui. Conquista Babilonia senza colpo ferire quasi. Con uno stratagemma incredibile. Perché se pensiamo a cos'è l'Eufrate, è un fiumaccio, lui ha fatto scavare, e non vicino alle mura, ma abbastanza lontano da poter non essere visto da chi era nelle mura, da chi era in città, un canale, un bypass. Per cui, quando è arrivato il momento, ha bloccato il fiume, ha aperto il canale, per cui l'acqua scorreva nel canale, e l'esercito ha potuto passare, entrare in città dal detto del fiume, passando sotto le grate di ferro che bloccavano l'accesso, che non arrivavano fino in fondo. Ma un lavoraccio bestiale, né? Diciamo anche un azzardo se volete, un azzardo, un'intuizione bellissima. Che comunque ha funzionato. E lui si è sostituito e la sua politica, il suo modo di tenere soggiogate tanti popoli diversi, era l'opposto di quello, per fortuna anche degli ebrei e di tanti altri popoli, era l'opposto di quello dei babilonesi. Loro divide e ti impera. Dividi, massacra, distruggi, maltratta e spargi. E così puoi comandare tranquillo. Lui invece riunisci e rimanda a casa. Perché, se trattati bene, staranno con te volentieri. Non con la paura, ma con la fiducia. Spingendo verso la riconoscenza di questi piccoli popoli che restavano sempre sotto me, non diventano indipendenti. Israele non sarà più una nazione. Però torneranno ad essere un popolo in una terra loro. Sapendo che chi comanda è Ciro, è l'imperatore persiano. E lì, a rappresentarli, ci sarà un satrapo, un governatore. Non saranno loro a decidere, ma comunque potranno essere liberi di essere se stessi a casa loro. Accettando di far parte di un grande impero. Versetto 37. Io, Dio e il Signore, dichiaro che permetterò di nuovo agli israeliti di chiedere il mio aiuto e così li renderò numerosi come un gregge. Gli uomini che abiteranno di nuovo le città, ora in rovina, saranno numerosi come loro erano gli animali destinati ai sacrifici che durante le feste solenni riempivano Gerusalemme. Allora riconosceranno che io sono il Signore. Potete tornare a essere contenti di essere il popolo di Dio. Questa è l'opportunità che lui già annuncia mentre sono in esilio e non si vede nessuna crepa nell'impero che li domina. E spesso e volentieri, come è il Vangelo, quando Gesù nel Vangelo dice certe cose e noi lo guardiamo a partire dalla nostra realtà quotidiana e nella mia situazione come un po' di... Cos'è che dimentichiamo? Che quel che tocca a lui lo fa lui. Rendere vere le parole che Dio dice tocca a Dio. E' quello che dice? Rendere vere le parole che lui dice tocca a Dio. Cos'è che tocca a noi? Fidarci che lui è capace di farlo davvero. Che non è una presa in giro. Che non è un bluff. Che è uno che sa quel che dice. E che è capace di fare quel che dice. Il vero problema è credere. E fidarsi. Non si nasce con la fede in tasca. Ognuno di noi nasce pagano. Idolatra. Chi idolatriamo noi quando nasciamo? Noi stessi. Il nostro bene. Il nostro utile. Da lì dobbiamo imparare pian piano. E il battesimo ricevuto fin da piccoli serve? Sì. Se noi siamo disposti pian piano a fidarci di questo. Perché essendo battezzati da piccoli per poter davvero vivere il battesimo, utilizzare quindi il battesimo, dobbiamo pian piano fare da battezzati, man mano cresciamo, quel cammino che avremmo dovuto fare da grandi per poter ricevere il battesimo. Da adulto? Nessuno ti dà il battesimo se tu non accetti di fare un cammino di fede. Battezzato da bambino devi fare da adulto, da giovane, man mano cresci, quel cammino che avresti dovuto fare prima. Altrimenti il battesimo resta una... Utilizzazione, una merita. Un regalo sconosciuto. Un regalo che tu mai ha aperto il pacchetto. Eh, bravo. E come può Dio rendere possibili queste parole? Capitolo 37. Grazie. Grazie.